Ti porto per mano sulla rupe tarpea e tratteniamo il fiato per gettarci giù l'appalato, costando affatato, diverto a legge l'aria e altare senza tempo e via l'idea di vetro, dal ferezzo del vento, guarda che bello le aprile di mare sulle colonne antiche e gli eroi fascisti gettarsi sulle barrette con te amiche e la lupa romana, ci guarda con amore e riconosce il sapere, non ci spiega il cuore vieni a passaggio con me, madre di stasera Vieni a passaggio con me, le sp intensive Ehi! Grazie a tutti. Il nostro comandante Stefano, Maurizio Giorgio e altri camerati che ci hanno preceduti. Io sono in questo momento commosso perché la mia memoria torna indietro di anni come la vostra memoria. Devo anche raccontarvi un episodio che praticamente ci sta dando ancora la ragione. Noi sette anni fa abbiamo organizzato un evento a Montevilata dove chiedevamo che questi presenti fossero unitari. C'è convergesso da questi presenti anche altre forze di aria. Allora non siamo stati ascoltati. Oggi sembra che qualcuno ha recepito questa cosa. E quindi noi dopo, per chi vuole, andremo al presente unitario che si venti ad essere unitario. E noi ci crediamo e quindi noi dopo ci richiediamo da Cavarenzia, insieme agli altri camerati, a onore dei morti. Noi continuiamo ad essere sempre presenti qua perché per noi questo mausoleo rappresenta tutti i martiri della rivoluzione fascista. Tutti i caduti che sono morti dopo rappresenta tutti noi. Per cui adesso sfineremo qua facendo un pensierino, rivolgendo un pensierino a tutti i camerati che ci hanno preceduto. Dopodiché, chi vuole, ci ritroveremo da Cavarenzia. Volevo ricordare che sono diversi anni che veniamo qua a fare questo presente. Ricordo l'anno scorso quello che è successo e qualcuno di noi ancora sta pagando ingiustamente quello che è successo. Per cui, insomma, ecco, è solo un piccolo ricordo di quello che era. Camerati attenti! Camerati riposo! Camerati attenti! Per tutti i camerati assassinati! Presente! Per tutti i camerati assassinati! Presente! Per tutti i camerati assassinati! Presente! Camerati riposo! Camerati attenti! Libri! Orrei potessi sentire nel tuo cuore quello che provo io Quando carezzo questi pilastri che sono l'ossa di un dio che ti ricorda ogni giorno che nulla è tramontato e che il futuro è solo il ricordo di uno stupendo passato Vieni a passaggio con me Vieni a passaggio con me Una di queste sere Tra le bandiere nere ed un tramonto rosso Sulla città imperiale Vieni a passaggio con me Sul ponte Mussolini Dove corrono i bambini con i fazzoletti neri Oggi come ieri 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 Grazie a tutti.